Vi stanno prendendo per il culo Titolo del video Vi stanno prendendo per il culo Stanno prendendo per il culo voi E sono così bravi a prendere per il culo Che riescono a prendere per il culo Anche chi non vorrebbe essere preso per il culo Perché ci sono certi di voi che negano l'evidenza E ci sono altre persone Fortunatamente queste persone di partita in partita crescono Tipo me che l'evidenza non la negano Ma comunque riescono a essere presi per il culo lo stesso Dato che questo video farà un pochino più di views rispetto a quelli precedenti Io vi invito prima di metterlo in pausa Andare a prendere il posto partita di Empoli Milan Di guardarlo i primi 2-3 minuti E tornare qui Vi invito a farlo Perché? Perché dopo Empoli Milan vi dissi ragazzi La pacca è finita Monza Salerno Salernitana Sassuolo Cagliari Empoli 5 partite dove dovevi vincere Categoricamente E ti sei pure permesso Di pareggiare a Salerno Ti sei permesso di pareggiare a Salerno Questo cosa significa ragazzi? Significa Che vi stanno prendendo Per il culo Analizziamo la partita Il Milan parte meglio Poi l'Atalanta Si risveglia Il Milan fa gol Nel miglior momento dell'Atalanta Che quando tu fai un gol Nel miglior momento avversario Vuol dire che tu Devi prendere Sfruttare l'occasione Prendere la partita in mano E voi cosa gli avete permesso di fare? Di ribaltare tutto Madonna ragazzi Cioè ma siete veramente incredibili Il Milan che trova anche un bel gol Perché trova un bel gol E poi cosa succede? Prendiamo gol dal calcio d'inizio Prendiamo gol da Raga Ma è possibile vedere Dopo un calcio d'inizio Una difesa 20 metri fuori dall'area E 30 metri tra difesa e centrocampo Quando io dico in live Che il Milan In fase di non possesso È io penso la peggior squadra Del campionato Soprattutto In rapporto Qualità Gioco Mi prendete per matto Però intanto I gol arrivano E arrivano E arrivano E arrivano Quando Vi dissi Dopo Milan Cagliari Perché io parlo di numeri ragazzi I numeri La matematica non è una cazzo di opinione I numeri non mentono mai I numeri non mentono mai Quando vi dissi Dopo Milan Cagliari 4 a 1 Che Leao Sbagliò Sul 3 a 0 Sul 3 a 1 Sbagliò Un gol A 6 metri Dalla porta Gol che ha sbagliato Poi la domenica Empoli Vi dissi Ragazzi Questi gol Vanno fatti Perché L'Empoli Di fatti Ramporta 20 volte A partita L'Atalanta La Roma O Udine Importa Non ci tiri Soprattutto Se giochi così Importa Non ci tiri Quanti tiri ha fatto Importa il Milan oggi 2 Uno è il gol E uno è un tiro di Pulisic 3 metri fuori dall'area In tutto questo però mi scuso Perché non vi ho ancora detto Il motivo per cui Vi starò prendendo per il culo Adesso ve lo dico Non ve l'ho voluto dire all'inizio Perché Avrei rovinato la sorpresa Quindi lo metto nella parte Diciamo centrale del video Il motivo per cui Vi stanno prendendo per il culo È questo Pioli Almeno fino a fine anno Non lo esonerano Non lo Toglietevelo Dalla testa Dimenticatevi L'esonero Di Pioli Pioli che È già riuscito A buttarci fuori In due competizioni Su tre Adesso rimane la terza Che sulla carta è quella più difficile Perché poi Volete sapere come andrà a finire Salvatevi il video adesso Il Milan magari vince con Ren Poi Si becca un Liverpool Un Brighton Si becca una di quelle squadre lì E piangiamo Perché andrà a finire così ragazzi Andiamo a lottare Vi d'Europa League Tutti belli ringalluzziti E poi usciamo pure lì E così facciamo tre Su tre Triplete di uscite Dal campionato ci siamo usciti Ottobre Dopo la partita con l'Udinese Dalla Coppa Italia ci siamo usciti oggi E dell'Europa League È questione Fatecelo a giocare Prima di uscire Perché tanto sarà una cosa breve in dolore Mi stavo dicendo Che non lo esonerano Ragazzi Non lo esonerano Punto Toglietevelo dalla tessa E perché non ve lo esonerano? Perché vi stanno prendendo per il culo Il Milan perde contro il Borussia Dortmund Una partita vergognosa Ultimatum Contro il Frosinone Contro il Frosinone Ripeto se non è chiaro Contro il Frosinone Col Frosinone Con tutto rispetto vinci Perché vinci E allora Pioli ha di Bitum Perde una partita a Bergamo Scandalosa Perché tu quella partita lì Ti hanno preso a pallate E nonostante tutto Ce l'hai fatta pareggiare E tu non è che hai detto Ascolta mi hanno preso a pallate Un attimo Un attimo perché Ma hanno preso a pallate Sto calmo Mi porto il punto a casa No voi non contenti Avete provato a vincerla E l'avete persa L'avete persa Ultimatum numero 2 Ultimatum col Monza Col povero Monza Che Vinci Pareggi a Salerno Io vi ricordo Che con la Salernitana La Juve gliene ha fatti 6 C'era Juventus in due partite La Salernitana ha fatto gli stessi gol Che Mia gli ha fatto in 3 anni Cioè questo è il problema Ultimatum contro il Sassuolo Poi arriva uno Sassuolo Cagliari ed Empoli Una più disastrata dell'altra Che poi attenzione Aspetta un attimo Il Sassuolo Andata di culo Perché il Sassuolo Come vi ho detto Con la partita lì La rigiochi 10 volte Finisce 0 a 0 Andata di culo Col Sassuolo E qua arriviamo alla questione Che forse divide Di più La tifosi La rossonera La questione Della gente Che si accontenta Di poco E la gente Che Invece Come me Il poco È insignificante Per me Vincere 3-0 Ad Empoli Sì quando vince È sempre bello Indipendentemente Dall'avversario Quando vince è bello Ma Guarda anche con chi vinci Vincere ad Empoli È bello Ma hai vinto ad Empoli Penultimo Terzo ultimo In classifica Non mi ricordo Hai vinto col Cagliari Hai vinto col Cagliari Poi però Si presenta la squadra Un pochino più Sostanziosa Che Perde l'allenatore Dopo mezz'ora E perdi Fa due tiri in porta Che poi i ragazzi In merito all'Atalanta Gli vanno dati Per carità Perché l'Atalanta È uno di quelle squadre Ma Fa parte di quel Listone di squadre Dove c'è l'Inter Dove c'è la Saturnitana Dove c'è l'Udinese Dove c'è la Juventus Dove c'è il Lecce Dove c'è il Napoli Che ha capito Il povero gioco Del Milan Il gioco Inesistente Del Milan Che quasi Non possesso Lascia La difesa Centrocampo Voragine Tra difesa Centrocampo Spaventosa E Infilare la difesa Del Milan Ragazzi È un gioco Da ragazzi Per donatemi la ripetizione Infilare la difesa Del Milan Non ci vuole niente Non ci vuole E lo dimostrano I 64 gol Presi Nel 2023 Perché sono gravi Ragazzi Da settembre Ad adesso Dalla prima Partita di campionato Bologna Milano 0 a 2 Abbiamo incassato 32 gol 32 32 Siamo a metà stagione 32 per 2 Quanto fa? 64 Vogliamo arrivare A 64 Gol presi Anche quest'anno O vogliamo Darci una piccola Svegliata La piccola svegliata Con quell'allenatore Non gliela puoi dare Non te la puoi dare Cioè Ma io cazzo Io le vedo Le altre squadre La Roma Oggi Che con la Lazio Ha giocato Una partita Aberrante Negli ultimi minuti La Roma Ci ha provato Che poi Non ci sia riuscita Eh vabbè Per loro mi dispiace Ma va bene Il Milan Quando deve pareggiare Fa falli In attacco Il Milan Funziona all'incontrario Il Milan Quando vince Nel senso Non che fa un gol Ma che il risultato Matura Tipo Empoli Tipo le squadrette Allora lì È tolto Napoli Lecce Allora lì Forse riesce A fare qualcosa Ma il Milan Come prende gol Si spegne E la cosa Che mi fa Imbarazzo Schifo Siete voi Che continuate a dire Che il problema Sono i giocatori E ci sta Che un giocatore Si ha sottotono Una partita Ragazzi Non tutti Possono giocare Tutte le partite Al mille per cento Oggi Musa Ha fatto schifo E non è un po' È l'unico Centrocampista Che ha giocato 90 minuti Toglio Loftuschik E Randers Ora Loftuschik Si Aveva 4 persone addosso Randers Che comunque Se era fatto un pochino Ballere L'ha tolto Ma voi non vi preoccupate Perché sapete Cosa c'è domenica La Roma C'è la Roma Domenica Vedrete un po' Domenica Vedrete la Roma Che regalino ci fa Non vi preoccupate Ve lo dico io Vedete questa parte Le dito Fate lo screen E domenica Se ne riparla Vedete voi Io ragazzi Quello che avevo da dire Ve l'ho detto Due vittorie con Empoli E il Cagliari Non fanno Non risollevano Una situazione Che è già disastrosa Di suo Due competizioni Su tre Già fuori Continuate A supportare Pioli Continuate Io Non ci sto Ci si vede domani mattina Con la live reaction Che adesso Pensate che bella live reaction Che mi tocca anche montare Pensate un po' voi Ci si vede Grazie a tutti